Ciao a tutti da Fabrizio Nizzoli, l'agente immobiliare che non ti parla di immobiliare. Abbiamo parlato spesso di cambiamento, ho parlato di paura di cambiare e della paura invece che in alcuni casi motiva il cambiamento. Oggi ti voglio parlare di empatia, perché penso sia quel sentimento che ci aiuterà a migliorare e a cambiare questo mondo in meglio. Ho pubblicato anche recentemente un video che si chiama La Società Empatica, con sottotitoli in italiano. Lo trovi su YouTube ed è veramente molto interessante, anche perché ti aiuterà a comprendere come l'empatia ti aiuta a capire che tutti noi, tutte le persone che hai vicino, vogliono cambiare, vogliono qualcosa di diverso e spesso hanno paura nel farlo. E quindi a capire le dinamiche per cui avvengono certe cose e comprendere quindi alcune situazioni nella vita che altrimenti ti sembreranno incomprensibili. Fammi sapere cosa ne pensi e ti aspetto al prossimo video. Ciao!